Grazie a tutti. È opportuno mantenere vivo un sistema che è ordinamentale che ormai annovera un grande numero di iscritti ma una domanda sempre crescente e che vede questa connessione con il lavoro storicamente, cioè lo fa da sempre in qualche modo. E adesso anche attraverso il duale un maggiore legame anche con l'apprendistato e quindi con l'occupazione. È evidente che i finanziamenti vanno probabilmente ulteriormente rafforzati se vogliamo rispondere alla domanda di formazione. Bisogna rafforzare anche i legami con i fabbisogni territoriali delle imprese, naturalmente. In questo senso abbiamo anche avviato un'indagine che coniuga le osservazioni del repertorio IFP con l'indagine di analisi dei fabbisogni professionali delle imprese, che l'ISFOL fa da molti anni, censendo 32.000 imprese, insomma quindi una cosa molto grossa. Questo porterà anche a prevedere una revisione delle figure del repertorio IFP, che è una cosa che le regioni chiedono da molto tempo, sia allargando il ventaglio delle figure, sia manutenendo e aggiornando le figure nuove. Grazie.